partiti All'inizio della curva conduce sempre Dan e Tsunami davanti a Montefanum Passion for Life Nalini Malani Badweiser Piccinette Magica Vita Rasalgetti Tolo Sana Samitri e Cariti poco prima dell'ingresso di tour è sempre facile in vantaggio Dan e Tsunami davanti a Montefanum Passion for Life e Nalini Malani i cavalli entrano in dirittura con Dan e Tsunami in vantaggio lungo la corda attaccata all'esterno da Montefanum seguono Piccinette Passion for Life Nalini Malani Samitri Rasalgetti è in vantaggio Montefanum attaccato a centro pista da Samitri lungo la corda Nalini Malani seguono Piccinette e Rasalgetti è in vantaggio Montefanum davanti a Samitri Nalini Malani e Piccinette Grazie a tutti Grazie. Grazie.